Chekhov, lo zufolo, sfinito dall'afa della boscaglia di abeti, tutto coperto di ragnatele e di aghetti di conifere, si apriva un varco col fucile verso il margine del bosco, il fattore della masseria di Dementiev, Meliton Shiskin. La sua damca, un incrocio di cane da cortile con setter, eccezionalmente magra e pregna, con la coda bagnata tra le zampe, si trascinava dietro il padrone e faceva ogni sforzo per non pungersi il naso. La mattina era brutta, imbronciata, dagli alberi ravvolti in una lieve nebbia e dalle felci cadevano grossi spruzzi. L'umidità boschereccia mandava un acuto odore di putrido. Più avanti, dove terminava la macchia, si ergevano delle betulle e attraverso i loro fusti e i rami, era visibile lo sfondo nebbioso. Qualcuno dietro le betulle suonava uno zuffolo da pastore, di rozza fattura. Il suonatore prendeva non più di cinque o sei note. Le trascinava pigramente senza cercare di legarle in un motivo, ma ciò non di meno nel suo pigolio si sentiva un che di austero e di oltremodo angoscioso. Quando la macchia si diradò e già gli abeti si mescolavano con le giovani betulle, Meliton scorse un armento. Cavalli impastoiati, mucche e pecore vagavano fra i cespugli e facendo scricchiolare i rami annusavano l'erba del bosco. Sul ciglio, addosso a una betullina bagnata, stava in piedi un vecchio pastore, scarno, in un gabbano, lacero e senza berretto. Egli guardava a terra, pensava a qualcosa e suonava lo zuffolo, evidentemente come un automa. «Buondì, nonno, che Dio ti aiuti!» lo salutò Meliton con una vocetta esule, rauca, e che non si addiceva per nulla alla sua enorme statura e alla sua grossa faccia carnosa. «Ma tu lo suoni bene, lo zuffolo!» «Di chi è l'armento che pascoli?» «Di Artamonov», rispose di malavoglia il pastore, e si ficò lo zuffolo in seno. «Allora anche il bosco è di Artamonov», domandò Meliton guardandosi in giro. «Ed è proprio di Artamonov, guarda un po'. Stavo per smarrirmi affatto. Tutto il muso mi son graffiato tra i pruni». Egli sedette sulla terra bagnata e prese a farsi una sigaretta con una carta di giornale. Al pari della vocetta sottile, tutto in quel uomo era minuto e non corrispondeva alla sua statura e larghezza e alla sua faccia carnosa. E il sorriso e gli occhietti e i bottoni e il berrettino a visiera, che a malapena gli stava sulla testa grassa e rapata. Quando egli parlava e sorrideva, nella sua faccia rasa, paffuta e in tutta la sua figura si sentiva qualcosa di donnesco, di timido e umile. «Via, che tempo, ce ne guardi Dio», disse e storse il capo. «La gente non ha ancora raccolto l'avena, è questa pioggetta perché lavori a cottimo che Dio l'abbia in gloria». Il pastore guardò il cielo, di dove scendeva una pioggia minuta. Il bosco, il vestito bagnato del fattore, riflettè e non disse nulla. «Tutta l'estate è stata così», sospirò Meliton. «Va male per i contadini e i signori non hanno da rallegrarsi». Il pastore guardò un'altra volta il cielo. Pensò un poco e disse con pause, come se ruminasse ogni parola. «Tutto tende alla conclusione. Del bene non c'è da aspettarsene». «Com'è qui da voi?», domandò Meliton, mettendosi a fumare. «Non hai visto nella radura di Artamonov delle covate di galli di monte?». Il pastore non rispose subito. Tornò a guardare in cielo e dai lati. Riflette e batte gli occhi. Evidentemente alle sue parole attribuiva non poca importanza e per raddoppiarne il valore cercava di pronunciarle strascicando, con una certa solennità. L'espressione del suo viso era senilmente penetrante e posata, e per il fatto che il naso era solcato trasversalmente da una tacca in forma di sella e le narici guardavano all'insù. Sembrava scarna e beffarda. «No, mi pare di non averne viste», rispose. Il nostro cacciatore, Yermkà, diceva di aver levato una covata il giorno di Sant'Elia vicino alla randa, ma probabilmente spacciafrottole. «Ci sono pochi uccelli». «Sì, fratello, pochi. Pochi dappertutto. È una caccia a ragionare sensatamente da nulla e che non mette conto. Selvagina ce n'è per niente e per quella che c'è non è il caso per adesso nemmeno di sporcarcici le mani. Non è ancora adulta. Robetta ancora tanto minuta che a guardarla savergogna». Meliton fece un risolino e agitò la mano. «A questo mondo succedono tali cose che c'è solo da ridere e nulla più. Gli uccelli oggi si sono fatti strambi. Cominciano tardi a covare e ce n'è di quelli che, il giorno di San Pietro, non avevano ancora lasciato le uova. Come è vero il Dio!» «Tutto tende alla stessa conclusione», disse il pastore, levando in su la faccia. «L'anno passato ci fu poca Selvagina. Quest'anno ce n'è ancora meno e tra un cinque anni, penso, non ce ne sarà più per nulla. Io mi sto accorgendo che ben presto non soltanto di Selvagina, ma anche di uccelli non ne rimarrà più affatto». «Sì», a noi Meliton lo può aver riflettuto, «è vero». Il pastore sogghignò amaramente e tentennò il capo. «Fa meraviglia», disse, «e dove si sono cacciati tutti. Una ventina d'anni fa, mi ricordo, c'erano qui e oche e gru e anatre e galli di monte, annugoli, annugoli!» Se accadeva che i signori andassero a caccia, non si sentiva altro che «bum, bum, 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 bum!» Di beccaccini, beccacce e ciurli grossi ce n'era da non poterli ammazzare tutti. E di arzavole e ciurli piccoli, tanti come fossero stati stornelli, o diremo passerotti, un visibilio. E dove si è cacciato tutto ciò? Perfine di uccelli rapaci non se ne vede più. Sono scomparse le aquile, sono scomparsi i falchi e i barbagianni. È scemata di numero ogni sorta di bestie. Oggi, fratello, il lupo e la volpe sono una rarità, non parliamo poi dell'orso e della mustela. E prima, invece, c'erano perfino gli alci. Sono circa quarant'anni che osservo di anno in anno le faccende del buon Dio e capisco che tutto tende a una sola conclusione. A che cosa? Al peggio, giovanotto. Alla rovina c'è da pensare. Per il mondo di Dio è venuto il tempo di perire. Il vecchio si mise il berretto e guardò in cielo. Fa pena, egli sospirò dopo un po' di silenzio. Dio, come fa pena! Certo, è il voler di Dio. Il mondo non fu creato da noi, ma tuttavia, fratellino, fa pena. Se una pianta secca o, se diciamo, una vacca muore, anche allora ti prende la compassione. Ma che cosa dovremmo vedere, buon uomo, se tutto il mondo va a rotoli? Quanto ben di Dio, o Signor Gesù! Il sole, e il cielo, e i boschi, e i fiumi, e le creature! Tutto ciò fu creato, conformato, adattato scambievolmente. Ogni cosa è stata messa in opera e conosce il proprio posto, e tutto ciò deve andare in malora. Sul viso del pastore si è acceso un maestro sorriso, e le sue pate sbatterono. Tu dici, il mondo dovrà perire, disse Meliton pensando. Forse anche la fine del mondo sarà presto. Ma non si può giudicare dagli uccelli. È ben difficile che gli uccelli possano esserne indizio. Non gli uccelli soltanto, disse il pastore, ma anche gli animali selvatici, e il bestiame, e le api, e i pesci. Se non credi a me, domanda ai vecchi. Ognuno ti dirà che il pesce adesso non è più affatto quello che era. Nei mari e nei laghi, e nei fiumi, di pesce da un anno all'altro, ce n'è sempre meno. Nella nostra pescianca, ricordo, si prendevano dei lucci di un arscin, e ci vivevano anche le lote, e il melanoto, e la reina, e ogni qualità di pesce era di bella presenza. Oggi, invece, anche se hai pescato un luccetto o una piccola perca ad un quarto di arscin, puoi ringraziar Dio. Per fin la vera cexina non c'è più. Ogni anno è sempre peggio, e se aspetterai un poco, non ci sarà più pesce affatto. E prendiamo adesso i fiumi. I fiumi credo che stiano seccando. È vero, si stanno seccando. Ecco, è proprio così. Ogni anno sono sempre più poveri d'acque, e ormai, fratellino, non ci sono più quei gorghi che c'erano. Eccola, li vedi, c'è spugli? Domandò il vecchio, indicando da una parte. Dietro a quello è il vecchio letto, chiamato l'anca. Quando viveva mio padre, la pescianca scorreva là, ma adesso, guarda, dove i diavoli l'hanno portata. Sta cambiando letto, e vedi, lo muterà fino a quando non sarà seccata del tutto. Dietro al curgassovo c'erano paludi e stagni. Ma oggi, dove sono? E dove si sono cacciati i ruscelli? Da noi, ecco, in questo stesso bosco, scorreva un ruscello. È un tal ruscello che i contadini ci collocavano le nasse e pescavano i luci. L'anatraselvatica svernava lì accanto. Ma oggi, anche in tempo di piena, non ha una corrente discreta. Sì, fratello, dovunque tu guardi, dappertutto va male. Dappertutto! Seguì un silenzio. Melitone si fece pensieroso e fissò gli occhi in un punto. Avrebbe voluto ricordarsi almeno di un aspetto della natura che l'universale rovina non avesse ancora raggiunto. Sulla nebbia e sulle strisce oblique della pioggia, come sui vetri opachi, scivolarono macchie di luce, ma subito si spensero. Era il sole che, spuntando, cercava di aprirsi un varco attraverso le nuvole e di gettare uno sguardo sulla terra. Sì, e anche i boschi, mormorò Melitone. E anche i boschi, ripete il pastore, e vengono tagliati e bruciano e seccano. Roba nuova non ne cresce. E quel che viene su, subito lo si taglia. Oggi spunta e domani, guardi, la gente l'ha già tagliato. Così, senza fine né limite, fino a che non resterà nulla. Io, buon uomo, fin dalla liberazione vado al pascolo con l'armento della comunità. Anche prima della liberazione facevo il pastore presso i signori, pasturavo in questo medesimo posto, e da quando son vivo, non ricordo un giorno d'estate che io non sia stato qui. E in tutto questo tempo ho osservato le faccende del buon Dio. In vita mia, fratello, ci ha fatto l'occhio, e adesso capisco che ogni specie di piante va scemando. Si prende la segala, o gli ortaggi, o un qualsiasi fiore. Tutto tende alla stessa conclusione. In cambio la gente si è fatta migliore, osservò il fattore. Meglio in che cosa? Più intelligente. Più intelligente, sì, questo è vero, giovanotto. Ma che pro se ne ha? A che diavolo serve l'intelligenza agli uomini di fronte alla rovina? Per dire si può anche senza intelligenza alcuna. A che serve l'intelligenza al cacciatore se non c'è selvaggina? Io ragiono così, che Dio ha dato all'uomo l'intelligenza e gli ha preso la forza. La gente si è fatta debole, straordinariamente debole. Prendiamo me, per esempio. Io non valgo un centesimo, sono l'ultimo dei contadini di tutto il villaggio. E tuttavia, giovanotto, forza, ce no! Ecco, guarda, io sono sulla settantina e ogni santo giorno vengo al pascolo e faccio ancora la guardia ai cavalli di notte per un bugrivenni. E quanto a dormire non dormo e non resto intirizzito. Mio figlio è più intelligente di me, ma mettono al mio posto e lui domani stesso chiederà un aumento o andrà a farsi curare. Proprio così. Io, fuorché pane, non consumo nulla. Perciò faccio oggi il nostro pane quotidiano. Anche il padre mio, fuorché pane, non mangiava nulla. E anche il nonno. Ma al contadino d'oggi dai pure e tè e vodka e panini bianchi. E lascia che dorma dal tramonto all'aurora e che si curi e ogni sorta di mollezze. E perché? Si è indebolito, non ha più la forza di sopportare. Magari vorrebbe non dormire, ma gli occhi gli si appiccicano e non puoi farci nulla. È vero, consentì Meliton. Oggidì il contadino non val niente. Non c'è da nascondere il male. Peggioriamo di anno in anno. Se adesso prendiamo in considerazione i signori, quelli si sono indeboliti più del contadino. Il signore di oggi ha imparato tutto quanto e sa tali cose che nemmeno bisognerebbe sapere, ma a che pro? A guardarlo ti viene compassione. Magrolino, malaticcio, come un qualsiasi ungherese o francese. Non ha né gravità né presenza. È solo di nome che ha un signore. Non si trova il poverino né luogo né lavoro e non raccapezza che cosa gli ci voglia. O se ne sta seduto con la lenza a pescare, o sta disteso a pancia all'aria e legge un libro, o si caccia in mezzo ai contadini e dice ogni sorta di cose, e quelli che sono affamati vanno a fare gli scrivani. E così vive di balzecole e ha in testa tutt'altra idea che quella di applicarsi a un lavoro serio. I signori di una volta erano per metà generali, ma quelli di adesso sono tutta pelletica. Sono fortemente impoveriti, disse Meliton, e sono impoveriti perché Dio ha tolto loro la forza. Contro Dio non si va. Meliton tornò a fissare un punto. Dopo aver pensato un poco sospirò, come sospirano le persone posate, ragionevoli. Tentenò il capo e disse, e tutto questo perché? Pecchiamo molto, l'abbiamo dimenticato Dio, e perciò è venuto un tempo in cui tutto deve aver fine. Anche questo bisogna dire, che il mondo non può mica essere eterno. È ora di conoscere la discrezione. Il pastore sospirò, e come desiderasse troncare una conversazione spiacevole, si scostò dalla betulla e prese a contare con gli occhi le vacche. Ehi, 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 gridò, ehi, ehi, ma che possiate? Non c'è chi vi stermini. La portate nei pruni il demonio. Egli fece un viso adirato e andò verso i cespugli a radunare l'armento. Meliton si alzò e si trascinò pian piano lungo il margine del bosco. Egli si guardò ai piedi e pensava, aveva tuttora voglia di rammentarsi almeno qualcosa che la morte non avesse ancora toccato. Sulle strie oblique della pioggia scivolarono nuovamente delle macchie luminose. Esse saltellarono sulle cime del bosco e si spensero in mezzo al fogliame bagnato. Damca aveva trovato un porcospino sotto un cespuglio, e desiderando richiamar su di esso l'attenzione del padrone, levò un latrato che era un ululo. C'è stata da voi l'eclisse oppure no? gridò dietro ai cespugli il pastore. C'è stata, rispose Meliton. Ecco, dappertutto la gente si lagna che c'è stata. Vuol dire, fratello, che anche in cielo c'è il disordine. Non per nulla esso... Ehi, 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 ehi! Cacciato l'armento sul margine del bosco, il pastore si addossò alla bitulla, guardò il cielo senza fretta, tirò fuori dal seno lo zufolo e cominciò a suonare. Lo suonava come prima, macchinalmente, e non prendeva più di cinque o sei note, come se lo zufolo gli fosse capitato in mano per la prima volta. I suoni se ne volavano via incerti, senza ordine, senza fondersi in un motivo. Ma a Meliton, che pensava alla fine del mondo, pareva di sentire in quelle note qualcosa di molto angoscioso e uggioso, che volentieri avrebbe fatto a meno di ascoltare. Le note stridule più alte, che tremavano e si spezzavano, pareva che piangessero inconsolabilmente, come se lo zufolo fosse malato e spaurito. E le note più basse, chissà perché, ricordavano la nebbia, le alberi tristi, il cielo grigio. Una tal musica pareva in armonia col tempo e col vecchio, e coi suoi discorsi. A Meliton venne voglia di lamentarsi. Egli si avvicinò al vecchio e, guardando il suo viso malinconico e beffardo e lo zufolo, si mise a borbottare. Anche il vivere si è fatto peggiore, nonno. Non si può proprio più vivere. I cattivi raccolti, la povertà. Di continuo morì e malattie. Sono oppresso dal bisogno. La faccia paffuta del fattore si incorporò e assunse un'espressione ansiosa, donnesca. Egli mosse le dita, come cercando le parole che potessero rendere il suo vago sentimento. E continuò. Otto bambini, la moglie e mia madre ancora vivente e di stipendio in tutto e per tutto di essi rubli al mese, coi viveri a mio carico. Dalla povertà mia moglie è diventata un satanasso. Io stesso mi sono dato a bere. E sono un uomo ragionevole, posato, un'istruzione. Dovrei starmene a casa, in pace. Invece vado in giro l'intera giornata come un cane, col fucile, perché non ne posso più. La casa mi è divenuta odiosa. Sentendo che la sua lingua mormorava parole affatto diverse da quel che avrebbe voluto esprimere, il fattore agitò la mano e disse con amarezza, se il mondo ha da perire, che ciò sia al più presto. Non è il caso di tirarla lungo e di tormentare la gente in vano. Il vecchio si tolse dalle labbra lo zuffolo e, strizzando un occhio, vi guardò dentro per una piccola apertura. Il suo viso era malinconico e coperto di grossi spruzzi come di lacrime. Egli sorrise e disse, fa pena, fratello. Oddio, quanto fa pena. La terra, il bosco, il cielo, ogni creatura. Tutto ciò è stato creato, combinato insieme. In ogni cosa c'è un'intelligenza e tutto perisce per men di nulla, ma soprattutto fan pena agli uomini. Nel bosco prese a scrosciare, avvicinandosi al margine, una forte pioggia. Meliton guardò dalla parte dello scroscio, abbottonò tutti i suoi bottoni e disse, andrò al villaggio. Addio, nonno, come ti chiami? Lucà, il povero. Beh, addio, Lucà, grazie per le buone parole dette. Tamca, ici. Salutato il pastore, Meliton si trascinò lungo il margine del bosco e poi giù per un prato che gradatamente si trasformava in palude. Sotto i piedi gli sguazzava l'acqua e le carici, rugginose, tutte verdi e pieni di succhi, si chinavano verso terra come temendo di venire calpestate. Oltre il padule in riva alla pescianca, della quale aveva parlato il nonno, stavano dei salici e oltre i salici nella nebbia spuntava a bluastro il granaio padronale. Si sentiva la vicinanza di quella stagione disgraziata, in nessun modo scondurabile, quando i campi si fanno bui, la terra fangosa e fredda, quando il salice piangente sembra anche più triste e per il suo tronco scorron lacrime e solamente le gru si sottraggono alla disgrazia comune, ma anche quelle, come temendo di insultare l'afflitta natura con l'espressione della loro felicità, fanno eccheggiare lo spazio di una malinconica, angosciosa canzone. Meriton si trascinava verso il fiume e ascoltava, come alle sue spalle morivano a poco a poco, i suoni dello zuffolo. Aveva tuttora voglia di lamentarsi, gettava tristemente delle occhiate ai lati e cominciava a sentire una intollerabile pietà del cielo e della terra e del sole e del bosco e della damca, e quando la nota più alta dello zuffolo volò, strascicando nell'aria e prese a tremare, con la voce di un uomo piangente, egli provò un senso altremodo forte di amarezza e di offesa per il disordine che si notava nella natura. L'alta nota prese a tremare, si ruppe e lo zuffolo tacque.